Un saluto dal Tg della mobilità domani a Roma, trasporto pubblico a rischio per lo sciopro di 4 ore dalle 8.30 alle 12.30 indetto tra i lavoratori ATAC dai sindacati USB e Orsa TPL. L'agitazione riguarderà la sola rete ATAC, non saranno invece interessate le linee bus gestite dalla Roma TPL, regolari anche le linee Cotral. Da questo mese è procedura di rinnovo semplificata per i permessi ZTL in scadenza a fine mese. È sufficiente accedere al sito ztlsemplice.romamobilita.it per presentare la dichiarazione sostitutiva che attesti il permanere delle caratteristiche del permesso, tipologia, titolare e targa del veicolo. Si riceverà via mail il bollettino per effettuare il pagamento e dopo aver versato l'importo dovuto, sarà trasmesso il nuovo contrassegno alla casella di posta elettronica che sarà indicata dal cittadino. La scadenza del permesso sarà variabile tra 3 e 12 mesi. E tutto appuntamento alla prossima edizione.